C'è molta Italia in America, c'è molta Italia nel mondo, lei è venuta a vedere la realtà più di rilievo? Per molti anni noi abbiamo pensato che l'Italia dovesse aver paura della globalizzazione e invece stiamo scoprendo con la forza dei numeri che l'Italia ha tutto da guadagnare dal fatto che il mondo è più aperto. Lo stiamo vedendo anche in questo viaggio negli Stati Uniti, ieri in Nevada una centrale energetica di forza straordinaria tra le più innovative del mondo, oggi Chicago con la scuola che aprirà formalmente sabato prossimo, che quindi oggi ha visto questa piccola inaugurazione, una delle scuole dove si insegna il metodo di Reggio, di Reggio Emilia, Reggio Children, un'altra eccellenza italiana e dove si insegna l'italiano, si parla l'italiano, un altro messaggio molto bello, molto importante che possiamo avere, l'export, siamo passati da 29 a 36 miliardi di euro negli Stati Uniti come export, insomma ci sono tutte le condizioni per cui l'Italia possa attrarre investimenti, domani faremo un importante accordo con IBM e contemporaneamente portare la bellezza del made in Italy come stiamo facendo. Quindi è un messaggio per dire che, sì lo so, poi ci sono quelli che fanno polemiche su tutto, che litigano su tutto, che non gli va bene mai niente, ma c'è un paese, l'Italia, che se smette di fare polemiche e prova a fare la propria parte, può essere un paese che cresce, crea posti di lavoro, crea cultura, crea valore e perché no, anche per chi sta all'estero, dà l'opportunità di imparare l'italiano e di essere forte e in qualche modo anche orgogliosamente parte della nostra storia. C'è un paese che hai tre parole in inglese per il pubblico. How exciting is it to be at a school like this? I think it's a great place because this school is very beautiful, first of all. And I think in the next years, with the great determination of the leadership, of the management, we can invest a lot, not only for the little girl and little boys, but also for the high school in perspective. So I'm really confident, I'm really confident because there is a very good method, a very good quality. In Italy this expression is called Reggio Children because it comes from Reggio Emilia, a very important city in which the experience in the schools are very good. But I think it's important also for the American people because, not only for Italo-American people, but for American people, because the quality of this education is absolutely good. And in general I am absolutely happy because Chicago is a great city, it's an incredible city. This morning I ran with the mayor, Rami Emanuel, and he's a very good guy, he's very athletic. I obviously ran, but I cannot say. And I think it's important the relation between Italy and USA. In the last year we increased the export from 29 billion to 36 billion. We can invest a lot in export, particularly in the agro-food, wine, but also in the high technology, machinery, instruments, infrastructure. So we have a lot of things to do. I think we are absolutely committed to give a new Italian wave in the United States. and for me it's particularly exciting to be here. Visit the Fermilab in the next hour and meet the community, the business community in Chicago before to go tomorrow in Boston before and in DC with the President Obama for the meeting of nuclear summit tomorrow and Friday. Thank you so much. What is your name? What is your name? What do you think of the city so far? I think Chicago, when I was mayor I visited two times Chicago, with mayor Medeli and now with mayor Emanuel. I think Chicago is one of the most brilliant, interesting cities around the world. It's a benchmark for a lot of cities, for a lot of mayor. And when I ran this morning with the Ram, I really appreciated as former mayor the absolutely and the strong preparation about all the projects, all the single projects in the city. When we ran, he told me, okay, this is a new garden, this is a new path, this is a new bike line. So I admire very, very well the incredible leadership of mayor Emanuel. and I consider Chicago a great city, with the particular friendship with Milano in Italy. Also Milano is in a transformation after an expo, after a good experience of mayor Pisapia. But I think for every city in Italy, Chicago could be a model and a point of reference. I would like to ask you a question about Paolo Reggiani. I know that it's been a lot of words, but it's been a lot of power, very well, very full of dignity of the Magri di Giulio Reggiani. What is the situation now with Egitto? The pain of the family Reggiani is the pain of the whole Italy. We are, with the heart, with the mind, with the concrete actions, in support of the family. Lo abbiamo detto dal primo giorno, lo abbiamo detto in tutte le sedi, in tutte le occasioni pubbliche istituzionali di partito e anche le occasioni private che abbiamo avuto in questi mesi. La vicenda è molto complicata, è seguita dal procuratore della Repubblica di Roma, uno dei magistrati più importanti, autorevoli e capaci d'Italia, il dottor Pignatone, con degli inquirenti di primo ordine, dei ROS, dello SCO, delle Forze dell'Ordine italiane. È chiaro che noi speriamo che si possa finalmente trovare il colpevole o i colpevoli. Questo non restituirà Giulio e la sua famiglia, ma restituirà onore all'Italia, all'Egitto e a tutti quelli che stanno soffrendo per questa incredibile vicenda. Noi ci fermeremo soltanto quando avremo trovato la verità. Lo abbiamo detto, lo dobbiamo alla famiglia Reggeni, ma lo dobbiamo a ciascuno di noi. Lo dobbiamo al popolo egiziano e al popolo italiano. Per cui il massimo impegno, il massimo supporto, il massimo sforzo da parte delle autorità italiane è perché i magistrati italiani possano avere pieno accesso a tutte le carte e in questo caso questo avverrà grazie al lavoro della Procura di Roma e noi siamo impegnati perché ciò accada senza alcun tentennamento. Ci fermeremo solo davanti alla verità e la verità vera, non una verità di comodo. Grazie.